Come avremmo concluso la scorsa settimana, è arrivato il momento di portare un po' di macchina, nel senso che sono riusciti a completare il vasto panorama dei cosiddetti anti-motori termici, lo abbiamo studiato tutti. Per fare questo chiaramente abbiamo approvuto un po' di richiami con i concetti di termodinatica, un po' di concetti basi sui principi di combustione e via rispondendo. Abbiamo concluso con alcune considerazioni sulla generazione contemporanea di energia termica ed elettrica, la cosiddetta cogenerazione e con quella, quindi, possiamo considerare concluso l'argomento, il vasto argomento degli impianti motori termici. Quindi adesso, come impianti motori, come impianti ancora per la produzione di energia meccanica ma poi, come vedremo, sostanzialmente elettrica, ci resta ancora un impianto da studiare, però non è più termico perché appunto è un impianto che non sfrutta più l'energia termica che abbiamo visto prodotta nella maggior parte dei casi dalla creazione di combustione che sfrutta quindi l'energia potenziale chimica di combustibile ma studieremo appunto quelli che sono gli impianti motori idratici, quindi quelli che sfruttano l'energia potenziale idratica. Però è arrivato il momento prima di vedere questa cosa anche perché avremmo bisogno di alcuni concetti che ancora ci mancano e allora penso sia arrivato il momento di andare a guardare un po' più da vicino il funzionamento di quei componenti che abbiamo nominato e disegnato schematicamente tante volte alla lavagna, mi riferisco sostanzialmente a quei trapezzi che rappresentano il simbolo unificato delle macchine, dei componenti e degli impianti che abbiamo studiato, tanto le macchine operatrici, quindi i compressori quando il fluido elaborato sia un fluido comprimibile, quanto le pompe quando il fluido è un fluido incomprimibile e quanto le macchine modrici, quindi sostanzialmente le turbine propriamente dette. In particolare, l'abbiamo detto qua e là, è al momento di precisarlo per bene, i compressori per esempio, facciamo un esempio e poi passiamo le macchine rotini, i compressori che abbiamo disegnato tante volte con quel trapezio nello schema dell'impianto con turbina a gas, abbiamo detto più volte e abbiamo visto qualche immagine e fanno parte della categoria di macchine operatrici del tipo, in particolare delle macchine cosiddette dinamiche, cioè macchine che sono attraversate in continuo dal fluido e la trasformazione di energia, stiamo parlando di macchine operatrici, quindi in questo esempio significa la somministrazione di energia meccanica che da qualche parte qualcuno fornisce a questa macchina che a sua volta la trasferisce al fluido, avviene appunto durante il passaggio del fluido all'interno della macchina, quindi individuate delle, una sezione per esempio di controllo e all'interno di questa sezione in particolare appunto di misura, se andassimo materialmente a misurare grandezze quali velocità, pressione, temperatrice, in quel punto noi troveremo che queste non variano a una volta, non variano a variare del tece chiaramente variano da punto a punto, quindi per questo dicevo se fissiamo un punto preciso, quindi se ci spostiamo variano chiaramente nello spazio e questa è una caratteristica appunto tipica delle macchine dinamiche, quindi in generale tranne i previ periodi transitori, questo nei nostri discorsi chiaramente non prenderemo proprio in considerazione, e quindi elaborano il flusso cosiddetto stazionato, d'accordo? e al contrario della macchina volumetrica, sempre per fissare le mete, vediamo qui il compressore volumetrico, il compressore volumetrico che assomiglia a guardarlo, solo a guardarlo, assomiglia per esempio, volumetrico alternativo, assomiglia al motore di cui ci siamo, al motore a combustione interna di cui noi siamo occupati recentemente, perché appunto è il compressore, diciamo il più semplice, il più antico tipo di compressore era del tipo volumetrico che si basava sul principio che se io racchiudo all'interno di questo volume è una certa massa di fluido e grazie ad uno stantuffo, per esempio, messo qui, mosso dal solito cinematismo, di spinta rotativa, ma questo non ci interessa più di tanto, se appunto lo stantuffo riduce progressivamente il volume a disposizione del fluido ne provoca un incremento di pressione e quindi l'energia, evidentemente il lavoro di compressione qualcuno in qualche modo lo sta trasferendo all'albero a cui è collegato tramite il cinematismo il nostro stantuffo. Quindi il lavoro di compressione chiaramente in termodinamica l'abbiamo studiato bene e occorrerà fornirlo al nostro sistema e quello che è intuitivo è la modalità con la quale questo lavoro viene poi da questa macchina trasferita al fluido, ovvero per riduzione di volume. Abbiamo visto, e quindi su questo ci siamo, abbiamo visto come, quindi, se questo è il modo di funzionare è chiaro che tutto ciò non può prescindere dal fatto che, come abbiamo detto a suo tempo più di una volta, evidentemente questa tipologia di macchina che realizza quindi la trasformazione in questo modo non può fare a meno di quelle due operazioni propedetiche al funzionamento stesso della macchina, ovvero in un primo momento occorrerà riempire di fluido il nostro sistema, la nostra macchina, poi si interrompe la comunicazione con l'ambiente, avviene la trasformazione termodinamica, dopodiché occorrerà effettuare la mandata, si dice così parlando di un compressore, la fase di mandata, ovvero si fa arrivare all'utente, qui ci sarà qualcuno, qualcosa che ha bisogno di questo fluido ad una pressione pi con due maggiore rispetto alla pressione pi con uno che aveva il fluido quando è stato prelevato. E questo è il modo, ed è abbastanza intuitivo. Le macchine dinamiche in cui ci andiamo ad occupare effettuano dal punto di vista termodinamico esattamente la stessa trasformazione, soltanto con una modalità completamente diversa. Quindi raggiungiamo a cose che abbiamo, non ne avete già sentito dire, però è arrivato il momento di mettere un po' in fila, in ordine, diciamo, è chiaro quindi quello, mi rifaccio un attimo a quello che dicevo prima del flusso stazionario oppure no. E' chiaro che questo tipo di funzionamento è al contrario dello stazionario, cioè che è fortemente non stazionario per questo modo di conseguenza, se io mi metto in un punto qualunque all'interno della macchina o anche in prossimità, nel senso in questo condotto o in quest'altro, e osservo quello che fa una certa grandezza, per esempio la portata di fluido che passa in questa sezione, è chiaro che al variare del tempo io avrò una variazione della massa di fluido abbastanza, che vedo passare, è abbastanza evidente perché avrò un certo valore di portata e variabile nel momento in cui questa vangola si apre e poi andrà a diminuire e per un certo periodo di tempo non passerà più nulla e poi di nuovo e via dicendo. Quindi questo è un chiaro esempio, quindi macchina volumetrica, flusso non stazionario. Viceversa quelle di cui andiamo ad occupare oggi le macchine dinamiche vedono un flusso che, ripeto, può essere considerato, è da considerarsi, pasturando i transitori, un flusso stazionario. Chiaramente il disegnino che vi avevo fatto prima, che abbiamo detto è più intuitivo che evidentemente ho adoperato, scelto l'esempio del compressore, nessuno ci vieta di fare la trasformazione inversa, cioè di fare un'espansione in un espansore volumetrico di quel tipo e quindi parlare di macchine motrici. Da un punto di vista poi della diffusione, gli espansori volumetrici, come sapete o come vedremo, sono molto poco diffusi oggi. Quindi la macchina motrice per eccellenza oggi è una macchina dinamica, appunto, la turbina. A meno di non andare a vedere come espansore volumetrico l'impianto motore a combustione interna fotografato nella sua fase di espansione. Quello è chiaramente un esempio di espansore volumetrico, però appunto non è soltanto un espansore il motore, è tutto un impianto, come abbiamo visto, particolare perché nella stessa geometria dell'impianto si alternano le classiche trasformazioni termodinamiche, si alternano nel tempo ma avvengono fisicamente nello stesso volume. E quindi, diciamo, viceversa, se adesso cominciamo a guardare, appunto, sempre per fare un esempio, cominciamo a immaginare una macchina dinamica che è motrice, quindi che debba realizzare l'espansione di un fluido disponibile, per esempio, con una certa pressione P con zero, una certa temperatura P con zero, quindi un contenuto entattico H con zero, e che entri nella macchina con una certa velocità C con zero, e che la lascia, invece, a una pressione P con due, temperatura P con due, entattia H con due, e velocità C con due. In questo modo, diciamo, raccogliamo l'utilizzatore, raccoglie il lavoro L con P, un lavoro di espansione pari ad L con P, che abbiamo visto tante volte, chiaramente preciso, d'ora in avanti per agevolarci il compito per comprendere il funzionamento di queste macchine, guardiamo, facciamo l'ipotesi di trasformazioni aviabatiche, però anche reversibili. Aviabatiche, l'abbiamo detto più volte, in queste macchine è un'assunzione assolutamente valida, che, a meno che uno debba fare un calcolo preciso fino alle cifre decimali, è un'approssimazione del tutto accettabile. sulla reversibilità, chiaramente, invece, è un po' meno, però il concetto, il modo di funzionare, chiaramente non cambia se noi consideriamo, facciamo l'ipotesi di flusso isentrotico oppure no, e quindi, diciamo, è assolutamente più conveniente mantenere per il momento questa ipotesi. E quindi, questo lo possiamo vedere, quindi, se questa è la nostra pressione P con 0, questo è il punto 0, questa è la sua tempatica reversibile, quindi, facciamoci, avrà un allenamento di questo genere, il lavoro che ne ricariamo, stante l'ipotesi di trasformazione reversibile, e il benotto. Ok? Altrettanto questa, quindi, è pari a quest'area. Altrettanto, quindi, siamo abituati a vederlo, sul piano HS, questa sarà di sopra P con 0, questa di sopra P con 2, e, come sappiamo, questo lavoro possiamo anche vedere come la valpropria coincidere con la variazione di etachia H0 e H2, quindi coincide con l'esempiamento 0,2 che è il nostro piano. Quindi, è chiaro che la quantità di lavoro che questa macchina riesce a produrre, a trasmettere all'esterno, in termini di energia meccanica disponibile sull'albero della macchina, dipende da questi parametri termodinamici, la quantità, cioè, in un senso che dipende da P con 0, da P con 2, da tipo di fluido, evidentemente, di cui stiamo parlando, e, diciamo, non dipende da come è fatta la macchina, nel senso che noi questa quantità, cioè, questi gialli per ogni chilogrammo di fluido evolvente, li possiamo ottenere tanto da una macchina dinamica di questo tipo, quanto da un espansore volumetrico del tipo che avevamo disegnato prima. Quello che cambia è proprio la modalità, il modo con il quale operano queste due diverse tipologie di macchina. Allora, guardiamo un attimo, quindi, diciamo, cominciamo a introdurre il modo di funzionare di questa macchina dinamica motrice, quindi, la turbina. Chiaramente, vada a sé, quindi, qualunque sia il tipo di fluido, quindi, se è un gas, il modo di funzionare della turbina a gas, se è un vapore, sarà un modo di funzionare della turbina a gas, è assolutamente ininfluente il tipo di fluido. Su queste cose. Allora, il primo concetto che dobbiamo introdurre appunto sta nella modalità che utilizza questa macchina per trasformare il contenuto energetico del fluido, lo vediamo come energia di pressione o come energia entattica, che è uguale a quello che preferiamo, questo contenuto energetico, come facciamo a trasformarlo in lavoro, in energia meccanica disponibile sull'albero della macchina. Diciamo che la differenza di fondo con la macchina volumetrica sta nel fatto che in questo caso, in generale, questa trasformazione avviene in due fasi, con un doppio passaggio. c'è nel senso che il fluido nelle condizioni appunto iniziali P0, T0, H0, C0, prima attraversa un condotto fisso, diciamo una sorta di tubo, poi vedremo meglio, per il momento va bene questo tipo di in una sezione iniziale a con 0 nel quale espande facciamo prima il caso poi vedremo che c'è una doppia possibilità diciamo una cosa un passo alla volta facciamo un'ipotesi scusatemi alla volta e vediamo prima il caso in cui l'espansione dal valore P0 al valore P2 avvenga tutta in questo condotto fisso questo è un condotto fisso cioè sta in una corzione della macchina che non si muove ok poi vedremo come è fatta e come si chiama insomma d'accordo e raggiunge quindi la pressione di condurre ok ora quindi che cosa è successo in questo che è fisso questo è un condotto all'interno del quale quindi avviene semplicemente questa trasformazione di espansione però essendo il condotto fisso diciamo quali sono le leggi che governano questo tipo di trasformazione se andassimo a scrivere ricordate la classica equazione di l'equazione dell'energia quella che è un bilancio tra l'energia quella che sancisce la conservazione dell'energia si può trasformare ma non distruggere nel momento in cui appunto avvenga un passaggio dalle condizioni zero alle condizioni due avevamo anche chiamato primo principio della termodinamica per i sistemi aperti nota con il termine equazione dell'energia in cui si diceva che tutto il contenuto energetico nelle varie forme energia entalpica o energia interna del fluido se preferite se vogliamo partire ancora da più lontano diciamo poi abbiamo visto che per i sistemi aperti è preferibile parlare di energia entalpica energia cinetica energia gravitazionale eventualmente ci fosse uno scambio di lavoro o uno scambio di calore tutto questo evidentemente all'ingresso deve essere pari al totale dell'energia in uscita è chiaro che andiamo a vedere per questo tipo di condotto così semplice come si particolarizza questa questa espressione in maniera piuttosto piuttosto semplice nel senso che in questo condotto abbiamo fatto l'ipotesi di adiabaticità quindi non ci sono scambi di calore è un condotto fisso quindi non abbiamo dubbi che se nulla si muove lavoro in gioco non può essercene e quindi anche questo termine è nullo in più parlando di un fluido prendiamo in considerazione i fluidi comprimibili ok ai ritori quindi quelli per i quali diciamo il termine energia gravitazionale g delta z è trascurabile ok e ok e che il flusso sia isentropico cioè adentropia costante in questo modo diciamo la nostra equazione dell'energia si riduce a qual è il patrimonio di energia possiede il fluido della sezione iniziale energia entattica e eventualmente non sia il quere che potrebbe anche essere partire dalla quere in generale l'energia cinetica è corrispondente alla velocità in ingresso c con zero chiaramente si è per mai abituati però potremmo potrebbe essere qualche dimenticanza io mi riferisco sempre all'unità di massa di fluido ecco perché scrivo direttamente le grandezze intensive delle cose e quindi chiaramente questo significa che il fluido si impoverisce di energia entattica e si arricchisce di energia di energia cinetra tramite questa espansione praticamente abbiamo provocato un'accelerazione del fluido e quindi rendiamo disponibile alla nostra macchina per il momento abbiamo effettuato solo una trasformazione di energia da una forma all'altra dell'accelerazione ancora non si vede né si può vedere appunto avendo parlato di un controllo fisso materialmente le cose funzionano proprio così ovvero quello che accade appunto è una prima trasformazione dalla energia di partenza energia di pressione o energia pentaltica come l'abbiamo scritta qui in energia cinetica ok a questo punto il fluido con questo elevato contenuto di energia cinetica entra nella parte mobile della macchina la vedremo tra un attimo precisiamo prima un po' di cose poi prendiamo il proiettore e cambiamo scenografia ok e nella parte mobile della macchina e quindi in questa parte poi vedremo ripeto come materialmente succede però diciamo dal punto di vista energetico è importante chiarire prima questi aspetti ovvero che nella parte fissa abbiamo trasformato il patrimonio iniziale energetico iniziale del fluido in energia cinetica e poi chiaramente nella parte mobile andremo a trasformare l'energia cinetica in energia meccanica con questa appunto scelta con questo caso come abbiamo detto quindi facendo in questo modo andiamo a mettere a disposizione della parte mobile della macchina il praticamente energia cinetica ottenuta ottenuta a spese del contenuto iniziale energetico del fluido lo facciamo prima espandere quindi a livello di energia di pressione a livello di energia inattica ormai il fluido ha avvenuto il suo valore uno però acquistato energia cinetica quindi ci basta progettare una parte mobile che sia in grado di trasformare l'energia cinetica in energia meccanica questo è un modo un po' più semplice se vuole un po' più intuitivo per capire questo tipo di trasformazione immaginate una semplice pala eolica dove appunto avviene qualcosa di abbastanza prossimo a questo modo di funzionare la pala eolica appunto trasforma l'energia cinetica del vento che investe la pala in energia meccanica alcune turbine idrauliche che vedremo tra un po' però potete un attimo immaginarvela da soli fanno qualcosa di questo genere sfruttano l'energia cinetica di una corrente d'acqua che va a impattare queste pale vedremo come sono fatte chiaramente queste pale della turbina idraulica e che cosa fanno? esistono varie tipologie di turbine idrauliche una piuttosto utilizzata abbastanza classica è una che sfrutta sostanzialmente solo proprio l'energia cinetica dell'acqua cioè non lo sfrutta salti di pressione eccetera ma prima si affida a una trasformazione di questo genere cioè facendo precipitare l'acqua da una certa altezza fino a valle durante questa caduta quello che sta avvenendo è una trasformazione di questo tipo dove l'energia potenziale idraulica dell'acqua si trasforma in energia cinetica quindi quando ha acquistato questa energia cinetica è arrivata giù è arrivata al fondo quindi l'energia potenziale non è a più quindi l'energia di pressione non è a più va a impattare le pale di questa macchina idraulica di questa turbina idraulica e trasformerà quindi l'energia cinetica in energia meccanica e questo diciamo è un modo piuttosto semplice per introdurre questo ed è una tipologia appunto di macchina dinamica che utilizza e sfrutta in questo modo tra un po' daremo anche un nome a a questo modo di funzionare delle macchine dinamiche prima quindi di passare avanti vediamo un attimo un po' più da vicino questo come deve essere fatto questo condotto fisso almeno quali caratteristiche deve avere affinché appunto avvenga in maniera corretta e soprattutto se vogliamo mantenere l'ipotesi di flusso isentropico come che geometria deve avere questo questo condotto diciamo io lo schematizzato così proprio per essere per fare uno schema più generale possibile però diciamo che come vedete la sezione A con 2 è diversa rispetto alla sezione A con 0 e questa è una condizione necessaria per realizzare questo tipo di flusso nella maniera nella maniera corretta andiamo a vedere quindi l'equazione dell'energia l'abbiamo scritta nella forma termodinamica classica l'abbiamo scritta prima quella stessa equazione un po' rielaborata si chiama equazione in forma meccanica dell'energia meccanica è quella che appunto altrettanto si dice che l'energia di di pressione e l'energia e l'energia cinetica del del fluido rimangono costanti e quindi questa significa che questa possiamo scrivere anche in termini questa è in termini finiti e questa in termini infinitesi e questa teniamoci questo risultato l'altra cosa che occorre evidentemente rispettare è che la portata che entra qui dentro evidentemente esca da qui cioè la portata rho a c c interna la velocità è scusate il prossimo avevo detto c zero ok uguale a questa cioè l'equazione cosiddetta di continuità molto semplicemente questa possiamo pure prendere il logaritmo e farà ancora una costante ok e quindi possiamo scriverla come somma se la differenziamo ok ok derrò mi serve qualcosa per questo derrò allora prima di tutto posso questo è un fluido comprimibile quindi un fluido che se si si dilatta se espande accelera in maniera proporzionale a quello che la sua il suo modulo di elasticità non so se queste cose però insomma senza andare troppo indietro e troppo troppo lontano da qualche parte credo che avrete incontrato la grandezza cosiddetta velocità del suono che incontra in qualche parte che appunto considerando l'espansione del P in fluido di una certa densità è proprio pari quindi diciamo il rapporto tra la variazione di pressione e la variazione di densità è proprio pari al quadrato della velocità del suono che per un gas perfetto si può anche scrivere in questo modo d'accordo 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 per pronto posso scrivere d'accordo d'accordo a quadro e quindi questa diventerà d'accordo 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 anche scrivere così moltiplico e divido per C la scrivo in questo modo e la lascio scrivere qua dentro e quindi la d'accordo d'accordo su d'accordo 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 il io ti 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 guardo zero d'accordo d'accordo ro Il rapporto della velocità del fluido rispetto a quella del suono è un caratteristico rapporto di velocità che si chiama, con la corretta M, numero di Mach. Ok? C su A. Quindi di questa farete lo possiamo scrivere come un quadro di C.C.2.1 C.C.A. 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 è la mia relazione, qualcuno la chiama di Ugo Mioli, non tutti sono l'accordo, va di questa paternità. Questa è la relazione però semplice, compatta, che però ci dà immediatamente un'idea di come devono essere fatti questi che vogliono realizzare un'espansione dalla quale evidentemente consegue un incremento di velocità. Questa relazione appunto ci dice che se il flusso parte dalla quieta, è la bassa velocità e si mantiene tra virgolette tranquillo, cioè finché non raggiunge la velocità del suono, quindi il flusso subsonico, questi segni qui dentro ci dicono appunto che ha un incremento di velocità del fluido che consegue alla diminuzione della pressione, quindi stiamo facendo l'espansione, l'energia di pressione si trasforma in incremento dell'energia cinetica, a questo incremento di velocità del fluido evidentemente dovrà seguire, dovrà essere realizzato all'interno di un condotto convergente, se appunto fin tanto che il numero di Mach è minore di 1, cioè se il fluido accelera, sì, ma senza arrivare alle condizioni soniche, d'accordo? Arrivati in condizioni soniche, cioè da che dipende questa, è chiaro, a sua volta l'abbiamo scritto lì, cioè l'incremento di velocità a sua volta dipende dal salto di pressione, dalla riduzione di pressione, dal rapporto fra, più che la differenza, dal rapporto fra la pressione iniziale e la pressione finale, più è alto questo rapporto, maggiore sarà l'espansione, maggiore sarà l'accelerazione del fluido, ok? Quindi diciamo che se questo rapporto cresce, io riduco sempre più questa sezione per favorire l'accelerazione del fluido rispettando i bilanci di energia che abbiamo appena visto, arrivato alle condizioni soniche, se sono in condizioni soniche appunto ho una sezione che non varia, che non varia più, ho una costanza, d'accordo? E se però dovessi realizzare un'ulteriore espansione dal, perché appunto il rapporto fra la pressione iniziale e quella finale, diciamo, qui ho la pressione iniziale, qui ho una pressione finale molto più bassa, diciamo genericamente, poi precisiamo meglio questo concetto, rispetto a quella iniziale, questa legge mi dice che questa volta devo cambiare il modo di variare le aree, cioè il condotto dovrà incominciare a essere divergente per il flusso supersonico, cioè qui il fluido continua ad accelerare superando la, quando Mach è uguale a 1 evidentemente, Mach uguale a 1 significa C uguale a, cioè ho raggiunto la velocità del suono nel mezzo, in quelle condizioni fisiche cioè sostanzialmente devo guardare la temperatura e il tipo di fluido, quindi se cambia la temperatura se cambia il gas cambia la velocità con la quale il suono si propaga in quel mezzo fisico, però non di moltissimo comunque però ne devo tenere conto, chiaramente questo era per introdurre, quindi come vedete per il momento abbiamo parlato dei condotti fissi dove avviene questa trasformazione, una forma di energia da una forma all'altra, ma di lavoro di produrre lavoro ancora non se ne parla, perché appunto siamo in un condotto fisso ehi, tutto chiaro? Dubbi? Impressità? Grazie. 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 Allora, torniamo al nostro elemento di macchina motrice, quindi abbiamo detto una prima trasformazione in un condotto fisso del tipo che abbiamo appena descritto. vi dicevo qualche minuto fa, adesso ribadiamo, è possibile, esistono numerosi esempi in cui si faccia qualcosa di un po' diverso, la sostanza alla fine non cambia per quello che dobbiamo realizzare una trasformazione in energia di pressione o pentaltica in lavoro, lo faremo lo stesso chiaramente, però appunto possiamo farlo con una modalità diversa, nel senso che possiamo fare in modo appunto quel condotto che ho disegnato prima e adesso ho cancellato, possiamo fare in modo tale che nel condotto fisso l'espansione avvenga fino ad una pressione intermedia, per esempio, P con 1, ok? A cui... quindi una espansione da P con 0 a P con 1, ovvero da H con 0 ad H con 1, a cui corrisponderà evidentemente, un incremento di energia cinetica pari questa volta a C1 quadro meno C3 quadro. con questo patrimonio di energia cinetica, il fluido entra nella parte mobile della macchina, solo che ora questa parte mobile dovrà essere progettata, disegnata in maniera un po' diversa perché avrà il compito di trasformare in energia meccanica non solo energia cinetica ma anche energia di pressione metaltica, quella che è rimasta ancora a disposizione del fluido. alla fine, diciamo, se è possibile per condizioni di funzionamento della macchina, il risultato finale non cambia perché il lavoro che si ottiene, qual è la differenza? Nel caso che, nell'esempio che abbiamo fatto prima, il lavoro si otteneva soltanto dall'energia cinetica del fluido quindi il fluido entrava nella parte mobile con un certo contenuto di energia cinetica che avevamo detto C2 per quadro, no? Quadro mezzi, che era maggiore di questo qui attuale, C1 quadro mezzi. Questa volta, in questo secondo esempio invece, il fluido entra nella parte mobile con un contenuto di energia totale uguale al caso precedente, solo che è ripartito in due forme. in parte energia cinetica, quindi avrà un'energia cinetica un po' più bassa rispetto a quella del caso precedente ma in compenso avrà ancora un residuo di energia di pressione, o in tattica comunque. D'accordo? E quindi la parte mobile ha a sua disposizione la stessa quantità di energia totale che aveva nel caso precedente e quindi supponendo che il rendimento di queste trasformazioni, quando vedremo le trasformazioni delle A non cambia, non viene alterato da questa diversa modalità di funzionamento e a parità appunto di noi possiamo senz'altro affermare, la termodinamica è questa, possiamo senz'altro affermare che il lavoro L con T ricavato nelle due modalità è sicuramente lo stesso. Cambia il modo con la quale viene ripartita l'energia che si mette a disposizione della parte mobile e vi ricordo solo nella parte mobile noi abbiamo la produzione di energia meccanica di lavoro mentre nella parte fissa che precede la parte mobile abbiamo solo la trasformazione di energia da una forma all'altra ma non ce lo dimentichiamo così. Ok? Possiamo anche, da solito appunto, si può fare una sorta di dare un indice di come avvenga questa ripartizione molto semplicemente, se quello, se a tutto l'elemento diamo a disposizione questo salto entattico o questo salto di pressione, possiamo dire, vedete che il rapporto tra l'entattia, il salto di entattia che mettiamo a disposizione della parte mobile sul totale si chiama grado di reazione si indica con la lettera R maiuscola non mi chiedete perché, insomma, sia un nome un po' strano ma questo modo appunto di ripartire l'energia identifica questo grado cosiddetto di reazione che è evidentemente un parametro ad inizionale che varia fra 0 e 1 nel senso che nell'esempio che abbiamo fatto prima quando io facevo avvenire tutta l'espansione da P0 fino a una pressione che coincideva con la P2 nella parte fissa evidentemente questo numeratore è uguale a 0 ok? le macchine con grado di reazione uguale a 0 si chiamano macchine ad azione R uguale a 0 macchina ripartendo invece in maniera evidentemente a seconda di come spostiamo questa isobara intermedia fra P0 e P2 otteniamo elementi cosiddetti a reazione cioè R maggiore di 0 abbiamo gli elementi a reazione elementi a reazione caratterizzato dal valore poi quindi un grado di reazione 0,2, 0,3, 0,5, 0,7 più o meno diciamo questi sono i valori poi che incontreremo mentre in realtà l'applicativo questo grado di reazione variabile diciamo da 0,2 fino a 0,7, 0,8 in alcune applicazioni particolari vi anticipo una cosa che vedremo con tutta camma più avanti quindi è chiaro che quanto più frazioniamo e quindi quanto più abbassiniamo la pressione intermedia a quella iniziale evidentemente tanto più riduciamo il contributo dell'energia cinetica rispetto all'energia di pressione questo in alcuni casi nel funzionamento reale però quello di cui noi non stiamo ancora parlando perché stiamo facendo le ipotesi di flusso isentropico nel funzionamento reale può dare qualche vantaggio in termini di rendimento della trasformazione perché ricordo sempre che le perdite fluidodinamiche sono proporzionali al quadrato della velocità quindi è più efficiente la trasformazione di fluido ad alta pressione e bassa velocità piuttosto che in generale salvo eccezioni quella di un fluido che ha una bassa pressione però ha una elevata velocità quindi per questo motivo in alcune applicazioni particolari si tende ad adottare gradi di reazione maggiori di 0 che tranquillamente ritornano 0,5 0,6 o 0,7 ok ci fermiamo qualche minuto qualche osservazione di una tasta introduttiva di una di una di una Grazie.